L'aveva detto, Emilia, Flavio, durante la pubblicità, Flavio, tutta la pubblicità, buon'energia! L'aveva detto, Emilia! L'aveva detto, Emilia, Flavio, tutta la pubblicità, buon'energia! Buonasera a tutti, buonasera, Flavio! Emilia, Flavio, tutta la pubblicità, buon'energia! L'ho scampato! Buonasera a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Che fa? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. 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 sotto sotto giù sotto un po' di giù grazie allora quando vieni in Australia vieni a stare con i nonni ecco, quello è più giusto come rapporto con i nonni e dopo te perché mia nonna ti cucina un bel piatto di lasagna ma che gliela fa maestro Biglietti e mio nonno Francesco ti dà un grande bicchiere di vino fatti in casa e dopo cantate ah io questo a Stefano col vino dopo sai che cantare perché mio nonno dopo dei grandi bicchiere di vino lui la sera canta sempre grazie grazie Chiudella grazie a te un saluto da tua bambina e tua bambina e grazie per tutti noi che naturalmente scrivono in Italia ma quando scrivete dall'estero non è per dire ma fare ancora di più grazie grazie cantate cantiamo dopo cena tre grandi bicchiere lei che chiede lo so io ti chiede se i tre bicchiere diciamo mille lei che no io devo pensare a quell'offertura in alto tempo va bene uff 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 uff